Oppicina richiede telecamere di sicurezza ma il comune prende tempo per cercare di arginare il trend che vede il borgo carsico oggetto di numerosi furti sia di auto che in appartamento. Le anime più rappresentative di Oppicina hanno già da tempo inoltrato richiesta di una dotazione di telecamere di video sorveglianza per scoraggiare i malintenzionati a commettere questo genere di crimine. La richiesta però è ancora in sospeso e i fatti di cronaca di questi giorni non fanno altro che riaccendere l'esigenza di maggior sicurezza. Negli anni passati nelle varie riunioni che abbiamo fatto ci avevano provesso le telecamere io spero anche ultimamente il sindaco ci aveva detto che arriveranno queste telecamere è una cosa che proprio penso servirà anche se non si vede dove prendono le macchine però si vedono le macchine che vanno via e quindi Oppicina ha due strade in pratica la via nazionale a via di Prosecco. Uno deve fare quella strada lì per andare fuori dal centro. E poi il problema anche droga se ci sono le telecamere anche vicino alle scuole Piazzale Monterrey ed anche dove c'è la scuola media insomma mi sembra o anche Villa Carsia mi sembra che sarà molto utile. Si resta in attesa dunque di una risposta da parte del comune lo stesso che in passato ha dovuto rimettere mano anche agli impianti di Trieste in quanto alcuni risultavano guasti o non più funzionali alle necessità motivo che ha portato l'ente comunale a una rivisitazione delle apparecchiature. E Oppicina intanto è rimasta la finestra i fondi pare fossero pronti ma le esigenze evidentemente sono state altre Palla ora a Palazzo Sipario per vedere come si può risolvere la situazione.